e ciao a tutti ragazzi noi siamo i frate gamer e oggi siamo tornati su call of duty ghost siamo registrati con un altro telefono perchè è il mio l'altro mi dice che youtube continua interrompersi eh vabbè ragazzi io inizio e non so quando luca inizierà fai a schifo il video eh ragazzi come esce esce non posso farli meglio ho messo anche la mappa più bella del gioco luca oh ci sono perchè è praticamente impossibile su aria azionemico c'è su aria azionemicos adesso gioco anche io eh non vi preoccupate su aria azionemigos iniziamo dove cacchio sono ragazzi in questo mappa qua succedono cose strane tanto comunque una volta ma io non conosco sta mappa dai non la gioco da tanto neanche un po' di terra ma io non la conosco sono appena morto era meglio fare un video di mike c'è te che l'hai detto eh lo so però vabbè magari diciamo a farlo lo stesso se i nostri genitori vanno a farlo a passeggiare oh chi l'ha si certo e allora prima problemi con la camera e la sopra noi con il gioco come cacchio eh troppo venisce qua il video eh mi perdi una cazzata però dimmi a un video se continua questo porco lo schifo oggi dobbiamo fare la gara di chi lì io e luca no deve succedere il peggio possibile immaginabile ma va a fa un culo vi invito a scaricare di scorte così entrate nel nostro gruppo ecco anche le armi sono andato a farci in culare vi troverete tutti i link dei video dei nostri canali poi il nostro tecnico penserà a tutto speriamo tecnico non ci deludere come il gioco altrimenti ti bagniamo ovunque questo video farà schifo ragazzi insomma io anche di proveremo a tagliare le parti chiederemo al nostro tecnico come di solito no ma in teoria riesco a tagliarlo in teoria riesco questo qua è come la storia di minecraft no è perché ci ha spiegato il tecnico ok ragazzi iniziamo la in questa mappa qua che non ci voglio dire no vabbè dai luca prendi il cecchino che la camperiamo tutto se vi va male questo video non uscirà mai oppure esce senza tagliare le parti e uscirà da schifo e venutamente così prendi il cecchino che la camperiamo se si blocca ancora ragazzi se si blocca finiamo col video questa ricorda la challenge ok io copri il quad e copri l'entrata questa ricorda la challenge chi fa più chi fa più kill una ecco ecco ma le morti non le contiamo no le morti no facciamo solo le kill cioè gli staremo a quattro minuti di questo tempo sono passati a a incularsi uccidolo porca troi nietto ciao bastardo ah no 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 pistola sono sottili sono sottili ah non ci sono sottili c'è no l'ho visto uno anch'io ah ma io non lo vedevo dietro il casello oh vai via te vai nel tuo posto vai nel tuo posto luca c'era uno che ci sa per cerchinarlo sono deciso a spaventare uccido uccido eh ma ci sono sempre eh ma si uscirà qualche potente non li trovo oh 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 stanno arrivando è arrivando? eh ma pure c'è tutto stronzo eccolo no ma anche tu male stanno tornando indietro no c'è un altro ho preso vetti l'assistenza vai c'è uno qui dietro dove? ma vai nel tuo posto possiamo fare quello che vogliamo eh? no quindi non è nel suo posto ma abbiamo detto possiamo anche non camperarla eh ahi no te lo dai ecco vabbè eh è la camperata a posto per fare le challenge genio? no certo aioh mentre ricarico f***o 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 cosa? mi ha passato senza quello? ehi la ciccio ma ciccio ma te quante kill hai? cinque ma dai ho due me l'hai rubata tutte dovevano stare ai nostri posti e tu 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 corri 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 ho un fucile a pompa preso preso one shot kill mmmm ucci ucci sento odore di gucci flint che non mi spara bravo ucci ucci sento odore di un camper ucci ecco ma se aveva messo la mina guardatelo 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 boom che infame tu sei kill io ho quattro quante morti io tre flint bravissimo mi si va a ammazzare flint non spara flint se la campera ma se gli arrivi da dietro non ce ne accorge e io sono arrivato da davanti mi ha anche visto io sono arrivato da dietro e aveva mai una melee mi mirava a me ma non mi ha sparato provi a mettere in pausa ink voltage no uuuu ma penso che siano tutti i bot no 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 sono tutti i bot questi mi sono no 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 è possibile che i bot li trovi così a caso hanno un nome ma secondo me sono robot sono computer ah no hanno anche dei rank e vabbè sono computer che giocano sempre con delle mail foto pirlo dai ecco puoi usare anche altre armi oltre a cecchino tipo gli sto usando cos'è adesso è il sat basta camperon di figa ah no ho detto cucizio come l'outfit che ho le mie scarpe ti accecano e vai cappa oh no guardate che chi guardate ho ucciso oh era così morto coltiamo anche l'assistenza è in 8 eventi io ho 820 quindi 8 kill e 20 di assistenza io 6 kill e un assistenza si 7 kill e un assistenza io vado di silenziato tutta vita tutta vita silenziato nooo ucciso camperoni di figa 9 kill oh sei caluto oh no no tela 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 pre preso non ucciso preso non ucciso ucciso io 10 kill nooo sembra ma hai 10 kill anche te e io ho un 10 kill un assistenza e io ho 10 kill un assistenza e io ho 10 kill un assistenza l'abbiamo pareggiata 11 kill eh il kill eh sono troppo 11 kill ma dai le pianti di pareggiare eh i fucili troppo te cos'hai di silenziato eh quello che sto usando la meretta no 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 12 kill ma io arrivavo anche a 20 kill ah 22 kill con il tempo illimitato eh si lo so è semplice sono arrivato 40 sono arrivato 40 kill con il tempo illimitato quindi basta ah guardate guardate che ora è entrato dalla porta non ucciso non uccido io ciocca non uccido io oh è entrato da dietro pirlo lo so ho visto te la coprimi te la coprimi l'ho ucciso con il cartellino non c'è anche l'altro dietro aiuto che casino ci sta facendo si sono io scusa lanciavo i missili con gli tu guardi chi l'hai 16 e mi manca una kill mi manca una kill mi manca una kill datemi un uomo morto dai tu vai un uomo che non sa giocare esatto ma datemi una a me no a me me ne serve una per fare cosa lo vedrai le 17 ah no la volta che le 17 oh long shot con il mitra dai però le kill con quello non valgono questo qua è il supporto no non fa le kill piuttosto di spaventa ok questo qua non sali guarda fa tutto lui è la valchiria oh quanto rinculo che ho a capo ora è il tuo e ancora qua fa che ha tuo zio ma basta ucciderli camperone scendi scendi il mio ricottore è andato scendi il mio ricottore è ancora andato è lì ok io ho un altro potere io vado ma e chi con quello non valgono no perchè oh c'è il mio ricottore suprimer ciccio levati non valgono eh quelli due che hai fatto non valgono vorrei tanto sbloccare il cane vorrei tanto sbloccare il cane lui si che mi aiuta hai vinto con il computer hai vinto con il computer uffi aspetta te lo voglio vedere ecco quando io uso il coso il il coso la cioè questo qua comunque è il mio amino qua un correzzato che si muove quindi le kill'e fa anche lui eh ma non valgono perchè come se è morto praticamente si sono io è morto praticamente è come il cane Esatto Ragazzi comunque questo video Mi sa che termina qua Sì Mi sia piaciuto Ciao